L'economia del territorio e il ruolo della banca locale è il titolo del convegno che si è tenuto nei giorni scorsi nella sala del Consiglio Comunale di Mondavio. L'incontro, che è stato organizzato dal Comune in collaborazione con Banca Suasa Credito Cooperativo, è stata un'occasione di confronto tra istituzioni, mondo del credito e le associazioni di categoria. Dunque un dialogo fra diversi attori che, come specificato il sindaco Zenobi, può portare concretamente a raggiungere risultati. Le banche locali, ha invece precisato il presidente di Banca Suasa, possono essere un volano fondamentale per famiglie e imprese. Noi siamo sempre stati vicini alle famiglie. Considerate che noi nei nostri mutui non utilizziamo il tasso pavimento, cioè vuol dire che noi autorizziamo l'euro ribo se è 0,25 e noi lo applichiamo. Quindi i nostri soci che hanno acquistato la casa in prima casa risparmiano circa 2.000 euro all'anno. Ma non solo questo. La nostra banca ha anche costituito una cassa mutua, la Suasa Vita, dove ci sono circa 1.500 soci che fa prevenzione. Abbiamo fatto prevenzione cardiaca, abbiamo fatto del melanoma, perché abbiamo i beni dei nostri soci e quindi la prevenzione che noi la riteniamo molto importante. Non ci vogliamo chiaramente sostituire al servizio nazionale, però vogliamo essere di supporto al territorio e ai soci dove la banca opera. Abbiamo chiesto e speriamo di rimanere autonomi, perché solo rimanere a contatto col territorio riusciamo a dare un aiuto al territorio. Quindi conoscere appunto da vicino le varie problematiche. Certo, certo. Chi meglio di noi conosce, noi ancora siamo una banca di relazioni. Io stesso visito le aziende, io stesso parlo con gli artigiani, le famiglie e capisco le loro difficoltà. Se continua così il sistema bancario, veramente, il povero rimarrà povero e il ricco rimarrà ricco. Noi, con la conoscenza, quando porto una pratica in consiglio di amministrazione, i consiglieri, questo di Mondavio, allora guarda, Mondavio sì, è una famiglia che conosciamo da 30 anni, persona per bene, eccetera. Il figlio ha questa difficoltà, aiutiamolo perché dopo risolverà. È questo, in sintesi, in due parole, quello che fa Banca Suasa. Una banca attaccata al territorio.